Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti, io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per l'amore, sono le tendenze per il prossimo periodo, vi ricordo sempre che sono letture di tipo generale, sono fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se volete poi avere un messaggio più completo, vi consiglio di andare ad ascoltare il vostro ascendente e il vostro segno lunare. Bene. Mostrami i pesci, tendenze energetiche, queste sono troppe, per l'amore, per il prossimo periodo. Grazie. Wow, abbiamo il sole. Cari amici dei pesci, qui sento, il sole mi parla nuovamente di quello che sono le amicizie, di quello che è un sentimento, un amore, una situazione, un certo tipo di relazione genuina. Mi parla di quella che è la purezza del bambino, insomma. Per qualcuno può anche fare riferimento a quello che è il bambino interiore. Andiamo adesso a vedere, amici dei pesci, perché abbiamo il sole qui per voi. Ok, direi che sono uscite tutte. Allora, abbiamo un 5 di coppe al contrario, un re di bastoni al contrario, una morte al contrario, un mondo al contrario, otto di coppa al contrario, abbiamo fatto un playing, il cavaliere di spada al contrario e il papa. Il papa è l'unico diritto. Allora, perché abbiamo il sole qua? Perché qui c'è qualcuno che in qualche modo sta cercando di fare un salto evolutivo in avanti, mi vorrebbe da dire, no? Abbiamo il mondo e la morte, due carte che mi parlano di quello che dovrebbe essere un cambiamento, però in realtà non viene vissuto, non viene percepito. È come se non fosse manifesto, come se non si riuscisse a manifestare. Andiamo a vedere nello specifico, prima di farvi, perché ne avete tantissime, al contrario, non che siano negative, ok? Oppure il mazzo è dritto, eh? Allora, la regina di spade, che mi spiega il 5 di coppe, e la forza. Qualcuno sento che non ha più le forze di giustificare determinate situazioni, determinati atteggiamenti, determinate, sentirei anche freddezze o rigidità, ok? Potrebbe anche essere che si stia cercando di cambiare un certo tipo di atteggiamento, ma la sento più nel primo modo. Andiamo a vedere il re di bastoni al contrario, per piacere, grazie, abbiamo un imperatore. Wow, un imperatore è un re di pentacoli. Allora, questi potreste essere voi, tranquillamente. Io sento che se fosse, è un po' come se in questo momento la vostra stabilità fosse più intellettiva che non, diciamo, istintiva, se vogliamo, no? È come se l'imperatore è un uomo che si è creato, costruito un impero, attraverso lo sforzo, attraverso il lavoro duro. È anche il re di pentacoli, ok? Come anche il re di bastoni, sono tre personaggi che sanno il fatto loro, sono arrivati dove sono arrivati, insomma. Però io sento in questo momento che la vostra ricerca di stabilità è più da un punto di vista psicologico, diciamo, la vostra ricerca della verità, che non da un punto di vista dell'ascoltare il proprio istinto. Per qualcuno potrebbe essere che si sente bloccato in qualche tipo di situazione, e che quindi si deve per forza avere in un certo senso un certo tipo di approccio concreto. La morte al contrario è spiegata dal giudizio, di nuovo qui, un qualche cosa, una rinascita che si vorrebbe, perché qualcuno, wow, guardate, qualcuno ha avuto un risveglio spirituale, sento, è come se aveste proprio preso consapevolezza con quello che è il vostro lato più nascosto, con quello che sono le vostre paure, è come se ci fosse stato questa evoluzione, questa presa di consapevolezza, e si fosse in questo periodo dove si sta cercando di chiudere un ciclo, e si sta cercando di aprire quello nuovo. È chiaro che tutti questi processi un po' di trasformazione creano sempre un po' di dolore, un po' di disagi, un po' di boicottamento mentale, però alla fine sono sempre per il bene. Vediamo perché c'è il mondo al contrario, abbiamo il diavolo e il 5D. Spade Potrebbe essere che questo diavolo faccia riferimento a un qualche tipo di tossicità all'interno della relazione, o se non avete nessuno, all'interno di quello che siete voi stessi in una relazione. Magari per qualcuno si ha questa tendenza un pochettino a controllare il partner o la partner, e comunque sento che c'è questa sorta, come dicevo, di tossicità, questa sorta di voler controllare. O per qualcuno potrebbe anche rappresentare il fatto che non ci si senta liberi di muoversi all'interno di quello che è una relazione, ed è un po' per quello che non si riesce a fare questo cambio di cui mi parla la morte, o anche il mondo, ok? Andiamo a vedere l'otto di coppa al contrario, per piacere grazie. Allora, abbiamo un 4 di coppa al contrario, un 5 di denari al contrario, e un mago al contrario. Per qualcuno sento che è faticoso fare questo tipo di lavoro, ok? C'è ancora questa perdita da elaborare, c'è anche quello che è una sorta di rifiuto, o di... Sì, io sento proprio che per qualcuno potrebbe essere il fatto che ci si sente abbandonati, ci si è sentiti abbandonati, e allora potrebbe essere che non si vuole abbandonare a sua volta, no? O magari è proprio questa storia del ok, mi sono reso conto, ho resa conto che determinate cose non vanno più bene per me, ho avuto questo risveglio spirituale, vorrei che le cose andassero avanti in un altro modo, ma purtroppo devo combattere con i miei scheletri nell'armadio, e non c'è, ripeto, quello che è un... un allontanarsi da una situazione. Per qualcuno potrebbe essere che questo cavaliere di spade e questo cavaliere di bastoni siano due persone, due figure diverse, dove da un lato ci si voglia staccare dalla situazione, diciamo, attuale, perché si sono viste delle cose che magari prima non si vedevano, ma dall'altra parte non ci sia questa sicurezza data da questa seconda persona per staccarsi dalla prima parte della stesa, diciamo. Andiamo a vedere perché c'è questo cavaliere di spade al contrario, per piacere grazie, perché poi comunque la lettura finisce con un bel papa, eh, e ricordatevi che abbiamo il sole come carta generale della lettura, che sono belle carte. Abbiamo una regina di coppe e una torre. Sento che qualcuno qui deve fare, deve prendere contatto, deve essere onesto con se stesso, ragazzi. Se è là per il personaggio in questione, non è un personaggio presente, non è un... come vi posso dire, una persona che è lì per voi, che ha voglia di ricominciare, ma che ogni tanto si fa vivo, ogni tanto no, voi cercate di fare un lavoro sull'ego nel senso che volete staccarvi da questa situazione, non attaccatevi subito ad un'altra situazione, uscite da soli o da sole da quello che è questo tipo di situazione o di relazione, ok? Perché sarebbe un po' come cadere dalla padella nella brace. Vediamo perché c'è il papa alla fine della lettura, per piacere grazie. Il papa è spiegato da un dieci di spade al contrario e da una stella al contrario. Quello che sento io è che dovete riacquisire la fiducia in quello che è l'universo, in quello che è il destino. Cercate di lasciarvi indietro quello che è questo dolore. So che è duro, ma comunque avete il sole, il sole scalda, gli animi comunque aiuta, è una carta di protezione, quindi sento che c'è comunque un certo tipo di protezione intorno a voi. E soprattutto il papa mi parla di quello che è proprio un disegno più grande, C'è un qualche tipo di lezione qui che bisogna apprendere che fa parte comunque di un destino di un disegno più grande, io sento. Andiamo a vedere che cosa hanno per voi gli angioletti del cuore. Intanto vi ricordo che se voleste supportare il canale potete mettere un like al video, iscrivervi oppure condividere. Andiamo a vedere per i pesci. Vale la pena aspettare. Il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Quello di cui vi parlavo poco fa. Poi abbiamo Lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia. Questo mi fa un po' pensare a questo tipo di situazione che magari sia qui, no? Anche se non avete nessun, magari è un po' che siete da soli o da sole, io sento che qui c'è ancora un qualche tipo di attaccamento all'ultima storia. Poi abbiamo Fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia. Ecco, quindi giriamo questa stella. Cerchiamo di ritrovare un attimino questo tipo di speranza, ok? Bambini. La tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Quindi nel caso abbiate figli insieme può essere che sia una fonte di dubbio se separarsi o no o in che modo progredire. Diversamente potrebbe anche voler dire che la vostra vita amorosa è influenzata da quello che voi avete vissuto quando eravate bambini. Poi abbiamo Conoscersi. Se svelate l'uno all'altro al vostro sé più nascosto rafforzate il vostro legame. Quindi in un certo senso sento che è necessaria una sorta di super sincerità. Bisogna un attimino anche diciamo togliersi la maschera. E poi abbiamo separazione. Si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner. Ok? Quindi potrebbe essere per qualcuno che se non c'è una reale separazione a livello fisico perché comunque io qui sì lo sento con queste due carte ma potrebbe anche solo parlare di quello che è una separazione a livello magari emotivo no? Sentirvi un po' distanti l'uno dall'altro o qualcosa per lo stile insomma. Andiamo a vedere le fatine che cos'altro hanno da dirvi che messaggio positivo vi possono dare. Inizio wow che è quello di cui mi parla un po' la morte questo è un nuovo inizio e il mondo al contrario che non vengono fatti quindi l'inizio arriva e meditazione quindi cercate di placare in qualche modo la mente cercate comunque di ritrovare quello che è il vostro centro ma non vi preoccupate perché ripeto c'è un disegno divino superiore ok? Quindi tutto quello che succede è per il vostro più alto bene. Bene amici dei pesci io vi ringrazio di essere stati qui con me spero che comunque la lettura vi sia stata utile vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao